Bella a tutti ragazzi ed eccoci in un nuovissimo episodio di The Walking Dead Si son due Non è stata colpa di Nika Scusate se ho parlato velocemente ma non lo so qua Non ci avrebbe Non lo so non lo so Ma non ci stava facendo nulla No no lasciamo meglio così ma tu eri lì E non in caso avresti potuto colpirci Eh si hai ragione Senti sono vabbè leggete voi ma un po' perché non mi va molto Qualche volta Pensate stesse Non lo so non credo ma ormai è caduto giù È caduto da quel cazzo di ponte Dobbiamo continuare Aspettate ho bisogno di un minuto Bene Luca posso parlarti in privato Contemporaneamente Raka Raka si Raka Raka Ecco qui Ma faccia di cazzo questo Clem Io sono secco No no mi avevo detto di avere del cibo E di che? Io per voi faria di tutto L'unica cosa è che Rebecca mi sta davvero antipatica Ma c'è nessuno entra a vedere cosa c'è là dentro No eh Vediamo cosa ha da dirci Guardiamo prima ancora C'è del tipo qualcosa Ma c'è il tipo di cibo Ma c'è il tipo di cibo Ma c'è il tipo di cibo E' un po' poco poco Pianti guardare Pianti guardare Pianti guardare Pianti guardare Pianti guardare Ma c'è il tipo di cibo Pianti guardare Voglio darci qualcosa No No sono un coglione Ho sbagliato Ok ma neanche Vabbè lasciamo stare Ma che cos'è quello qua? Oh madafaka Oh madafaka Lasciamo stare questo Per aprirlo Ma non credi questo qua Lo vorrei usare Per tagliare il pane Ma apriamo Sembra un bel co No è brutto È davvero brutto È una cosa Ma non è che l'ha lasciato ora Del tipo Vabbè vedere se si può Ah Te l'ho detto Va bene Spero che non si rompe Ma non credo Non credo che si rompe Oh madafaka Io non posso vedere Cosa c'è il braccio Cosa c'è Ok non c'era niente Che figata Sembra un bel co Quella là Sì 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 no no Cazzo niente Stava cercando di aiutar Vabbè stava cercando di aiutarci Insomma sì ha ragione Ci ha rimesso le palle Le pelle La pelle Ok Cazzo Non voglio parlare Sembra 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 Oh mio Dio Perché sono venuti qui? Chi li ha tirati? Forse il rumore dello sparo Non vi dico cosa sta qui Ma non lo so neanche io Non me lo dirà Per 5 giorni E' la cosa più bella Sembra che non ci sia nessuno E' da nozione Chiusa per bene Guardate raga Controllo la porta frontale Vengo con te Ehi Clem Come va? Beh sarebbe bello sapere che nessuno ci stia seguendo Forse potremmo avere un Lassù sarà più facile Senti Ma avevo una casa sull'albero Che cosa Devo cercare sette a volte E vai saliamo su Chi non vuole salire? Ehm Io Non voglio Ma va a vedere Ma potete fare Oggi ho una casa sull'albero Perché è difficile Chi non c'è la resta Ah si Se non andrò E ti prenderò Se credo Che cazzo sta a dire Probabilmente E' una buona presa No Quando ero ragazzo Io della città Era divertente Facevo una parkour Parkour Immaginate Vai da giù Dai su Ora qui c'è qualcuno C'è qualcuno C'è qualcuno C'è qualcosa allora No Te l'ho detto Che c'era qualcosa Te l'avevo detto Io che c'era qualcosa C'è che vede una casa Oh no Una luce Mi sa Che cazzarola è Ecco la luce E' un po' più bello Mi sei visto Hai capito chi è? Chi cazzo sono? No 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 Sei quella gente Oddio no fermi No guarda chi è Dove non riesco a vedere Non vedo E' una cosa bellissima raga Allora l'hai visto No Che cazzo è? E' una cosa bellissima Appena vede Su Correte Fatemi vedere chi è E' una cosa bellissima raga La cosa più bella di The Walking Dead 2 Secondo me Guardate raga Vi ricordate chi è raga? Oh mio Dio E' lui E' lui Ho capito Kenny 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 Appreccia Kenny Abbraccialo Abbraccialo Kenny 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 Ma che cavolo fai così Kenny Kenny No si dice Kenny Ti è cresciuta la barba Quanto è una spuntatina eh Una spuntata Raga Casomai poi vedo di trovare una foto di Kenny Vediamo se ve la metto Se ci riesco Comunque non vi assicuro niente Spero Così Insomma Vedete che è Io non ho fatto purtroppo The Walking Dead Cioè Il primo Quindi Non sapete che è Però Se sto vedendo Questo video vuol dire Che avete visto Anche il primo episodio Cioè The Walking Dead Dead Ma che cazzo è quello grosso? Cioè più grosso Più o meno Oddio Non possiamo dire che sia Uè 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 Regali Do stanno? Lada Comunque Se ci potete far sapere una cosa All'ultimo capitolo Per caso Clemente Muore Perché No No Non mi dovete far sapere niente Avete capito? No io lo voglio sapere Scrivetelo a lui Mamma no Scrivetelo là Vabbè Lo levo Scrivetelo